Salve a tutti ragazzi bentornati ad un nuovo video e oggi è un video Unboxing Sono qua per aprire questi due pacchi insieme a voi Questo qua è un semplice pacco da IBS quindi è chiaramente un libro E invece questo qua è un pacchetto molto più speciale perché è da parte del Pozionista Vero una pagina sia su Facebook che su Instagram che vende gadget a tema Harry Potter Ma anche fandom come per esempio Hunger Games e altri Questi gadget sono sia appunto gadget veri e propri ma ci sono anche gadget artigianali fatti da lui Come appunto queste piccole pozioncine che profumano addirittura Vi lascio il suo nick su Instagram e la pagina Facebook se siete interessati ad andare a curiosare Perché ci sono cose veramente molto 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 carine Grazie veramente tantissimo a Francesco che è appunto il proprietario dello shop La spedizione è stata super veloce e lui super gentile Quindi è veramente una persona fantastica Tra l'altro vi consiglio appunto di comprare oltre perché ha prodotti bellissimi Ma soprattutto perché comunque è uno shop privato Quindi dobbiamo darci manforte l'un l'altro Quindi se volete acquistare qualcosa Tema Harry Potter fandom Volete fare un regalo a un vostro amico Che ha Harry Potter o altri fandom Andate a vedere la pagina di Francesco il Pozionista perché ha delle cose veramente carine Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito ad aprire perché io sono curiosissimo di vedere cosa mi ha mandato Visto che non lo so Allora apriamo il pacchettino Comunque sti pacchi Qui la colla certe volte mi stupisce Cioè è tipo Non lo so Attack Non è colla Vai via più semplice Tra il pacco c'è un altro pacchettino E poi No più niente Ok Questa è la bustina che c'era all'interno del pacco Tra l'altro è chiusa con la ceralacca Che tra l'altro è verde perché io sono sette verde Lui appunto mi aveva chiesto di che casata fossi E non lo so È veramente una cosa molto molto carina Non capisco Sì credo proprio che sia una ceralacca comunque con un serpente Non si vede moltissimo però Penso che sì Comunque è una cosa carinissima Ma adesso andiamo ad aprire Allora La prima cosa che vedo è questo bigliettino Anche qua veramente pensatissimo Perché è tipo simil pergamena Quindi è veramente carinissimo Adesso lo leggiamo Grazie per aver deciso di lavorare con me All'interno di questo pacchettino Troverai una pozione Ti consiglio di annusarla Tra parentesi Due gadget e un piccolo regalino Spero sia tutto di tuo gradimento Ti ringrazio ancora E ti faccio i miei complimenti Per la tua pagina Instagram E il tuo canale YouTube Apprezzo e Pozionista Grazie mille C'è stato davvero davvero gentilissimo E quindi niente Adesso continuiamo a vedere cosa c'è all'interno La prima cosa che vedo è questo pacchettino In cui c'è appunto una delle sue pozioni artigianali Quindi fatta da lui E che dovrebbe profumare E tra l'altro c'è anche una spilletta in legno Con un gufo davvero carinissimo Adesso andiamo a vedere Comunque qua c'è il bietto da visita E adoro tantissimo il simbolo del suo shop Che è questo serpente con un calderone È veramente molto molto bello Comunque eccolo qua Ok ecco qua la pozione appunto Profuma seriamente Infatti adesso il mio cervello si era spento E non ricordavo il fatto che profumasse E poi mi è arrivata questa svampa Che è buonissimo Questa è la pozionecina È davvero davvero molto 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 bella È scritto appunto sulla pozione Sliterin Con questo pezzo di carta bruciacchiato E all'interno ci sono dei glitter bianchi E argento e verdi Che ricordano appunto serpe verde Ed è veramente una cosa molto 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 carina Mi piace davvero davvero un sacco E non vedo l'ora di farci tante foto Perché è davvero molto molto bella come cosa Continuiamo con la spilla con il gufo Questa appunto è una spilla E è di legno Con questo gufo tenerissimo E dietro appunto è colorato alla serpe verde Quindi con l'argento e il verde Anche qui pensatissimo Mi piace davvero un sacco Sicuramente lo attaccherò da qualche parte Perché è davvero un sacco un sacco carina Questo era il secondo oggetto nel pacchetto E infine l'ultima cosa Più il regalino Già vedo il regalino Vi faccio vedere prima il regalino Ed è questo piccolo Malfoy Di questa serie di personaggi di Harry Potter Che uscivano in qualche supermercato qualche tempo fa Eccolo qua è carinissimo Ti ringrazio veramente un sacco Adesso lo mettiamo qua Lo sguardo minaccioso di Malfoy Mi piace un sacco comunque È lì Questo è l'ultimo oggetto all'interno del pacchetto Ed è appunto un gadget a tema Hunger Games Sono felicissimo perché era una delle cose Che preferivo dello shop Mi piace tantissimo questa collana perché si tratta appunto di una collana con la freccia di Katniss Ed è veramente bellissima Il colore è appunto questo oro molto scuro E la freccia è fatta veramente un sacco un sacco bene Mi piace tantissimo Sicuramente la indosserò perché mi piace davvero tantissima È bellissima E queste erano tutte le cose che ho trovato dentro al pacchetto che mi ha mandato il Pozionista Io lo ringrazio davvero tanto Vi consiglio appunto di andare a dare un'occhiata alla sua pagina Instagram E anche al suo profilo Facebook Sotto comunque vi lascio tutte le informazioni per andare a vedere se vi interessa qualcosa Sono degli ottimi regali, degli ottimi gadget Sono veramente molto molto belli Quindi vi consiglio assolutamente di andare a vedere se siete interessati Quindi Francesco grazie ancora Si è stato gentilissimo e le cose mi sono piaciute un sacco Ok passiamo ora all'altra parte dell'unboxing Che è un pacco ad IBS Comunque in questi giorni tutti i libri per ragazzi Mondadori, PM e cose così Erano in offerta al 25% E quindi io ne ho approfittato per acquistare Lui, Shadow of Black, la dama bendata di Sebastian del Castel Che è il secondo libro della serie Shadow of Black Vi ho già parlato del primo libro nel canale C'è la recensione, ve la lascio nelle schede E io avevo amato tantissimo il primo libro Mi era piaciuto davvero un sacco Quindi sono stato felicissimo quando ho visto che la PM avrebbe pubblicato anche il secondo libro Che tra l'altro è meraviglioso È stupendo, mi piace un sacco come curano queste edizioni Sono fatte davvero molto molto bene Anche l'interno sono veramente molto molto belle È il 25% e ovviamente ne ho dovuto approfittare Quindi l'ho comprato immediatamente anche se non so quando lo leggerò Perché per adesso ho troppe cose da leggere Però siccome era scontato davvero tanto L'ho preso ed è bellissimo Io vi consiglio un sacco questa serie Se volete una middle grade Comunque molto avventuroso Fatto di intrighi Di personaggi particolari Stravaganti A me il primo era piaciuto un sacco E non vedo l'ora di sapere cosa succederà in questo Perché Non lo so, si prospetta davvero Un secondo libro molto molto interessante E la copertina quant'è bella E quindi niente ragazzi Questo era tutto Io spero che questi due unboxing vi siano piaciuti E quindi appunto vi ripeto Sotto vi lascio tutti Tutte le informazioni Per andare a vedere la pagina di Instagram E il Facebook del Pozionista E noi ci vediamo a un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti